GDF Cosenza sequestra oltre 10 kg di cocaina, un arresto. Deteneva circa 10,5 kg di cocaina, ma è stato scoperto e arrestato dai finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza. Il controllo è stato fatto nei pressi dell'area di sosta Salso Est dell'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. All'atto della perquisizione dell'auto condotta da un 25enne, sono così stati scoperti, occultati all'interno di un doppio fondo ricavato nell'abitacolo del veicolo, 10 panetti avvolti da nastro adesivo trasparente sotto vuoto contenenti lo stupefacente. Qualora è messa sul mercato, la droga avrebbe fruttato più di un milione di euro. Il conducente del veicolo veniva quindi tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e su disposizione del PM di turno della Procura di Castrovillari veniva associato presso la locale casa circondariale a disposizione dell'autorità giudiziaria inquirente.